Buongiorno a tutti. Oggi è con noi la dottoressa Anna Nicoletti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AGPD Onlus. Buongiorno dottoressa Nicoletti e benvenuta. Grazie mille, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di persone con sindrome di Down. Può spiegarci di cosa si occupa la vostra associazione? Sì, AGPD lavora da oltre 40 anni sul territorio milanese e lombardo per il rispetto e la dignità delle persone con sindrome di Down lavorando per una piena inclusione sociale, scolastica e lavorativa. L'obiettivo dell'associazione è quello di affiancare i propri associati lungo tutto il loro percorso di vita, quindi dalla nascita all'età adulta, supportandoli nelle varie fasi della vita. C'è proprio un camminare insieme alla persona e rendersi utili e sostenere la persona nella quotidianità nelle varie fasi della vita, esattamente. Quindi per poter sostenere le persone appunto nel momento in cui ne hanno bisogno, il principio fondamentale è proprio la conoscenza della persona e degli associati, quindi la conoscenza del contesto familiare, delle caratteristiche di quella persona, dei suoi punti di forza, degli ambiti in cui registra più fatiche. e quindi solo in questo modo l'associazione si può rendere utile e realmente sostenere quella persona partendo appunto dalla conoscenza che si matura negli anni ed è specifica su ogni associato. L'associazione è un'associazione quindi di genitori e persone con sindrome di Down e quindi nella relazione e nel camminare insieme sicuramente si ritrova l'essenza del percorso associativo. Lavorano in associazione anche professionisti e specialisti che appunto si attivano al momento del bisogno e riescono a dare un sostegno professionale grazie alle competenze e a tutto il know-how che siamo riusciti a costruire in questi 40 anni. Insomma è un'attività molto importante e proprio perché da quel che ho capito si deve seguire l'individuo vorrei sapere quanto è importante per le persone con sindrome di Down sentirsi accolti sia nel periodo scolastico ma anche nel periodo lavorativo. Ma allora sicuramente sono due ambiti cruciali per qualsiasi individuo e quindi anche sicuramente per i nostri associati. L'accoglienza è sicuramente un fattore preliminare. In questi due ambiti mi piace parlare anche, affiancare al termine accoglienza anche il termine valorizzazione. Parlando di scuola è importantissimo partire dai talenti. Sicuramente quando si parla di persone con disabilità il primo pensiero va quasi sempre ai limiti o a ciò che non riescono a fare. È importante riuscire a ribaltare questo paradigma e focalizzarsi sui talenti di quella persona, il potenziale, le competenze, le passioni che la distinguono e da lì partire con un percorso. In ambito scolastico sicuramente è fondamentale il ruolo degli insegnanti che possono veramente determinare un cambio di percorso per quell'alunno ed è fondamentale che essi stessi riconoscano questa rilevanza e riconoscano il potenziale di quell'alunno. E poi indubbiamente servono anche le competenze necessarie per semplificare le materie e per rendere accessibile il programma scolastico. In ambito lavorativo sicuramente AGPD è molto attiva da veramente tanti anni accompagna i propri associati nel mondo del lavoro e anche in questo caso ci piace focalizzarci sul valore che quell'associato porta in azienda e per farlo è necessario come in qualsiasi processo di selezione partire dalle necessità dell'azienda, dalla mansione che deve essere svolta e da lì scegliere i candidati migliori sempre tornando alla conoscenza dei propri associati, dalla conoscenza dei loro punti di forza e è importante da parte dell'azienda riconoscere il valore che quella persona porta nel team di lavoro eseguendo il proprio lavoro con passione, con dedizione e anche l'impatto positivo che può avere in termini di soddisfazione interna dei collecchi. Infatti. Adesso abbiamo parlato appunto delle persone, ma ci sono anche i genitori. Certo. Ci sono figure professionali che sono in grado di aiutare i genitori dalla nascita o anche prima della nascita fino allo sviluppo appunto, a seguire il cammino professionale dei figli? Certo. Sicuramente in associazione ci sono dei professionisti che sono equip di lavoro che seguono la famiglia e la persona composte da psicologi, da psicomotricisti, neuropsichiatri infantili, pedagogisti che poi seguono il percorso scolastico e poi sull'età adulta orientatori ed educatori che affiancano i nostri adulti appunto nella vita adulta. Non c'è una ricetta pronta per tutti, quindi quello che si fa è appunto costruire una rete intorno alla persona partendo dall'associazione ma anche collegandosi alla scuola, ai servizi territoriali e penso che questo lavoro di rete possa veramente essere di grande supporto ai genitori perché può affiancare punti di vista diversi, può mettere in luce le caratteristiche della persona con syndrome di Down da più punti di vista e può essere veramente un lavoro di raccordo e arricchimento attraverso il quale il genitore appunto si sente supportato nei primi anni di vita e si può costruire veramente una visione a tutto tondo della persona. Lei sta parlando, stiamo parlando molto di inclusione. Il linguaggio può essere uno strumento di aiuto per favorire l'inclusione? Crediamo assolutamente di sì, nel senso che a partire dal linguaggio si può legittimare o delegittimare, si possono in qualche modo rievocare stereotipi o offrire una visione di vicinanza o distanza rispetto alla persona. Quindi sicuramente è un elemento di attenzione, è un elemento che appunto può rievocare limiti, ma anche se usato nel modo corretto, può aiutare a superarli e a fornire una nuova narrazione, un nuovo sguardo sulla disabilità o sulle persone con sindrome di Down. Sicuramente spesso sperimentiamo nelle nostre vite un utilizzo non corretto e non pienamente inclusivo del linguaggio, per esempio parlando di sindrome di Down, appunto quando la sindrome di Down viene affiancata ad un linguaggio medicale che rievoca patologie, la sindrome di Down è una condizione genetica e non è una patologia, quindi spesso sentiamo dire affetto da, soffre di questo linguaggio che già è predisponente rispetto ad un pensiero insomma. Certo. Oppure persone Down, i Down, la dicitura corretta è persone con sindrome di Down o persone che hanno la sindrome di Down, quindi metter sempre la persona davanti e identificarle come persone speciali o come eroi. Anche questo crea distanza, quindi sicuramente un linguaggio neutrale e neutro aiuta a predisporre mentalmente e a sgomberare il campo in modo che poi ci si possa confrontare direttamente con la persona e con quello che ha da dire. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, voi come associazione le utilizzate, vengono utilizzate dalle persone con sindrome di Down, aiutano a raggiungere l'autonomia? Allora, possono, sono degli strumenti aggiuntivi che possono avere numerose applicazioni sia in termini di terapie più che in termini di mobilità, mi vengono in mente tutte le applicazioni per favorire la mobilità oppure anche all'interno dell'ambito delle autonomie domestiche, quindi mi vengono in mente applicazioni che possono guidare o dare supporto nella preparazione dei pasti e in alcuni casi sono anche le aziende che studiano applicazioni che possano favorire diciamo lo svolgimento di alcune mansioni sul posto di lavoro. Tecnologie possono favorire, possono dare un supporto ulteriore ma il percorso verso l'autonomia è un percorso lungo, si sviluppa su più fronti che devono andare avanti parallelamente. Ringrazio tantissimo la dottoressa Nicoletti per averci aperto uno spiraglio sul mondo delle persone con sindrome di Down e dei loro genitori. Ci sarebbe tantissimo ancora da dire, da approfondire e speriamo di incontrarci in una nuova puntata. e ringrazio tutti per averci seguito e buona giornata. Buongiorno.